a we amice non di pes e stop buongiorno a tutti buonanotte buon pomeriggio e buonasera ovviamente quando cazzo lo vedete il video non lo so allora ragazzi se riusciamo a trovare l'avversario vi faccio vedere qualcosa dopo il video di ieri ma non aggiungo altro sperando che mi trovi subito un avversario perché devo scappare e te parevi come sempre coppa challenge online fino a quando posso la farò già ho vinto due tre volte però a apri e chiude una parentesi seguendo un youtuber con molti iscritti non so dopo sei mesi si è è stato l'avversario ha fatto la scoperta dell'acqua calda in che senso ha capita adesso che la coppa challenge online mettendo tre giocatori risalto quelle con le coppettine ti danno più gp punti di esperienza eccetera eccetera ma dico io e meno male che può una grandissima pagina di facebook ma grande c'è nessuno te l'ha mai detto nessuno non te ne sei mai accorto a volte rimango stupito c'è assurdo ma bella vabbò porti contenuti di pes porca troia impossibile che non sai di questa cosa oltre che tra me e dede detto demis dede cripto lo abbiamo sempre detto io lo dico da anni sto fatto ecco qua allora come vedete vengo da 4 di 4 vittorie di fila dopo il video di ieri quello viene da una vittoria quali del bar hp allo italiano allora io ho portato gli avengers tutte le tre a e b più o meno ma quando si possono vedere più o meno i tre giocatori che colpette che sono parte un bagatissimo griezmann e raketic quindi raga io direi di iniziare così con le cartucce piene ma per il secondo tempo che mi serve che deve sfondare il culo poi dai iniziamo così facciamo allora facciamo facciamo così poi faccio vedere perché no facciamo così facciamo così tu vieni qua ok poi attacco 1 2 3 rigorista lui destra lui sinistra lui corta lui perché avete visto il gol di di alex dayes mamma mia raga spaccato la porta un megatiro difensivo lui contro piede mettiamo un gioco di natale non me le fotte un cazzo andiamo mettiamo a questo punto di si medici alle malette storiche di entrambi mettiamo a lui quella a me va bene questa dai forte sega mangiamocela giocare ragazzi in bocca luca me porca troia sperando che non devo scappare adesso sono sono cazzi amari interrompo la partita in questo preciso istante vi invito ulteriormente ricordatevi a farlo e mi raccomando ad iscrivervi alla pagina al gruppo facebook pes punk club italia iscrivetevi a dede kripton uno dei moderatori della pagina facebook demis non so non so neanche la valutazione di questo ieri l'ultima parte di battuto un 850 c'era certo di parlare molto di me voglio concentrarmi questa volta voglio ricordare che ovviamente io non mi posso tirare giro non mi posso lamentare perché sono di profondità non per sempre quattro palli e non mi ha fischiato uno va bene va bene nico tranquillo ragazzi non è niente ok bel passaggio proprio dal prendere i gol sempre al primo minuto io ormai è una costanza prendere gol così è una costanza però io segnale no 3 contro 1 mamma mia di voi saltare no tu è questo già in via siamo messi bene ma donna mia ragazzi non è possibile dai c'è zico dai sto perdendo col zico e dai madonna mia non vanno proprio porta ma non mi posso lamentare tu dici che mi lamento sempre ma i madonna mia ma perché quando devo registrare la quinta mi va sempre a puttana la squadra vabbè basta qua così oh ma che cazzo l'esperimento mi è riuscito io sono stato due secondi non minuti stare tre ore porca puttana molto peccato ma mi stanno girando i coglioni ma io non mi piace come sta girando la squadra la lentezza unica Ah, scusco le cross No No Dai Ma dove cazzo Oh madonna mia Siamo a me che a lui Ma si vede proprio che stanno rincoglioniti Ma E dove cazzo la dai di nuovo Madonna mia Ma guarda che partita di merda Dai fermo Che partita di merda Ma dai entrambi, non è solo a me Dove sta quello Oh ma Ronaldo che non ne prende mai una di testa Ma fesso è Concentrati Concentrati Giocare Poi voglio ricordare i fenomeni che fanno sempre i soldi I commenti di sto cazzo Sulle mie partite, sui miei video Ma voi Forse chi mi segue sempre lo sa Vi sfido chiunque a cambiare sempre allenatore Giocatore Squadra Formazione Cioè Facile parlare poi senza mostrare nulla Visto che mi state dando dello scasso Che io a me va benissimo Cioè non me ne fotte niente È un gioco Ricordiamoci che è un gioco Però io o meno Quando dico che metto la faccia Significa che io porto video E mostro anche la mia ciucciaggine Visto che poi l'ho sempre portato Per far vedere letteralmente Inizialmente E sempre Quotidianamente Un po' Questo è il 2 a 2 lo so già Lo so già Ha toccato Io cambio sempre i giocatori Sempre Ogni partita Perché è giusto Visto che ce li ho Provarli tutti Provarli Utilizzarli Ovviamente Quelli che poi veramente Realmente non mi piacciono Per niente Io li scatto Li butto Li converto Li svincolo Quale cazzo volete fare Faccio Vai che sta solo Quello Ma guarda come gliela Dalla palla Quello sono io Ah Poi vabbè Sto sempre giocando Adesso Non mi smonto più Da Passaggi livello 2 Mamma Passaggi assistiti Livello 2 Guarda che buco qua No vabbè No E buttala Sta cazzo di palla Ma guarda un po' Guarda come mi sta facendo i falli Guarda guarda Che pezzo di merda Perché dico lui pezzo di merda Non che lui è pezzo di merda Chiariamoci Che sanno Quest'anno il gioco Puoi fare tutti i falli che vuoi Non ti fischia una mazza Guardate Avete visto Mò il contrasto Niente Madonna mia Da 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 Che non l'ho tempo Sta facendo qualche cambio Spettacolare Ersta Halpzeit Un wechsel Bar Der Gefühl Und ich bin ganz ehrlich Ich vage hier So wie sich das entwickelt hat Keine prognose Di 2 D'alto Vabbè Mai Anche per zico Come sta a mettere Come si faccia Faccio quel zico Mamma Metan Di Ska Trevoli per tirare Nota qua Dove l'ho da la qua E niente Non so Ma come cazzi E su fa Tu a me Io i colpi di te No Che bel buco Io i colpi di testa Zero No No E quando è così E cazzo Ma io lo sa Ma sono scontati Poi di che cazzo Volei Raga I gol Sono scontati Guardate Non lo fanno vedere Ma che palle Che non fanno Livedere Ma un cazzo Niente Nucche faccio i lanci Perché ho capito Ed ecco una Madonna Madonna E dai Scatta Cristo Sa Madonna Ma Che palle E dove cazzo La dà La palla Ma tu guarda Non muerzo Io sapevo Mai una E niente Falle non fischia Vabbè Dai Falle non fischia Ma Vaglia Madonna Mai Mai Tenga Sfortuna Mai che io Trovo un cesso Alla quinta Alla quinta Di fila Mai Quinta Ma non è più che La quinta Per arrivare Almeno Ottocento Nessuno Nessuno che mi dà una mano Nessuno che mi dà una mano Dove cazzo state Con la tacca su Dove cazzo state Ma guarda I falli che mi sta facendo Quei Va a fare Mocca Mamma Dove Stuto Ramona Cioè io ho fatto Falle Come si chiama Qua Gol Io Gol Lui Prendi La Quello va avanti E quello vengi Vedi che questa Solo Un passaggio Dritto Non me lo fa E metti il piede Ma la morte Ma la morte Da tante Da mamma Tu Vai che se ne va Quello Avanti Avanti E qui si decino qua Ancora a ballarlo ciò la vanno si fa truncati ah io ho fatto fa va bene io ho fatto io ho fatto fa va bene è una smocco ottimo pazienza facciamo il mega invio vai già deciso il titolo no non ho deciso niente perché non è finita la partita perché sta solo ok tre persone la mie a chi dove è andata la palla a quel giro che fa il lancio a quel che sta solo niente la busta da tanda da mamma oh giustamente non mi devi fare il fallo allora ronaldi dove sta di qua di là mettiamo lì là ma c'è la mente la bomba ma fa mocca a mamma dove è oh peccato un po' più angolato dovevo tirare non faccio melina io non la so fare oh peccato perfetto 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 dai che se ne va ok dai che se ne va ma pe è appena entrato 99 si è fermato dai ragazzi ce l'abbiamo fatta porca puttana zoccola di una donna in calore ricordiamo ricordiamo a tutti che questo è un gasteme diciamo tra virgolette ironiche non bestemmie perché dice che io bestemmio qualcuno la z insieme va a besciare avan gul e poi ovviamente io sono uno dei pochi tranne cioè forse l'unico insieme e butta cazzo di palla vaffanculo si questo lo dedico a tutti gli amici di Pesce anche l'Italia ricordatevi che non sono morto però glielo metto in culo a tutti quei pezzi di merda che fanno i commenti di sto cazzo mettici la faccia come la metto io oppure se fate la video metteteci la vostra vocina non che le vostre partite le andate a dare a chi è eh vabbè non mi fai fare i nomi tardi bene ragazzi non posso aggiungere l'altro che devo chiudere veloce io porto i video non solo per criticare Konami e non Pes ricordatelo perché FIFA scaffate billion group neanche regalato ci giocherei per qualche altro deficiente ma lo faccio perché mi piace giocare e condividere con voi almeno questo mio come si dice questa mia avventura cazzo ce l'ho fatta vaffanculo cazzo ce l'ho fatta andate a fare in culo per cui eh ragazzi mi dispiace se ho trovato lui non è colpa mia io non sono come gli altri che nascondo pure davanti la valutazione del mio avversario prima di questo vi faccio vedere non mi credete così chiudi il video come vedete la prima del giorno se non ci vedete una di indietro vedete che la prima del giorno diamo indietro essendo quinta di fila non c'è da 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 nascondere nulla eh li ho battuti tutti molto superiori vinta 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 questo qua l'ha vinto 3 a 2 se non erro un elett 1 che significa 900 punti giusto elett 1 vedete 354 io non ho nulla da nascondere queste sono li rimetto le mie statistiche fatevi un resoconto va bene ragazzi obiettivo raggiunto condiviso con voi va bene adesso via con i commenti ricordatevi solo una cosa che io amo PES e se critico il gioco che critico Konami le dinamiche ho portato 750 miliardi di video dovevo farvi vedere un po' di schifezze ricordatevi ultimamente mi sta andando bene il gioco sta girando bene lo ammetto perché se no non sarei arrivato neanche a questa valutazione chiaro il concetto I love this game